Musica Amici di FFG Sport Channel e tifosi della Acegas APS Ben ritrovati, riprendiamo con oggi la nostra quotidiana striscia dedicata alla formazione di coach Eugenio Dalmassons in questo Acegas Today, vigilia della partita di Coppa Italia del ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia che vede Capitan Carra e compagni domani sera impegnati a Casale Monferrato partendo dal più 11 dell'andata Facciamo però un passo indietro e andiamo a vedere quello che è successo nella decima di andata della Lega 2 2012-2013 Legamberi, Forlì, Capo d'Orlando 7-1, 7-6 Imola, Brescia 6-7, 6-0 Pistoia, Trento, 9-6, 8-2 Scaffatti, Casale Monferrato, 8-6, 8-0 Tezenis, Verona, Ferentino, 7-9, 6-0 Veroli, Bologna, 7-1, 8-1 Barcellona, Iesi, 92-75 Mentre ha riposato la Acegas APS Trieste Trieste che ha giocato settimana scorsa una amichevole a Venezia al palasporto Agliercio contro la Reier Un amichevole che peraltro forse sarebbe stato meglio non giocare vista la messa di infortunati che ha creato In ogni caso, in vista dell'impegno di domani sera in Coppa la squadra è partita oggi pomeriggio al completo verso Casale Monferrato In classifica, nella Lega 2 dopo 10 giornate di campionato c'è sempre in testa Pistoia con 16 punti seguono Scaffatti e Bologna, coppia di inseguitrici a 14 Nelle gruppone di squadre aspiranti ai play-off si va dai 12 punti di Verona, Barcellona e Casale ai 10 di Trieste, Trento e Brescia Via via tutte le altre, Velo di Capodorlando, Iesi, Forlì, Imola e Ferentino nella seconda parte della classifica Occhio a Capodorlando che con Gianmarco Pozzecco e Fulio Steffè in panchina ha già vinto 3 partite su 4 e sta velocemente risalendo la china è arrivata a 6 punti e promette di proseguire ancora la formazione siciliana Complimenti davvero a Gianmarco Pozzecco, Fulio Steffè e tutto lo staff del Pozzecco che ha risollevato le sorti della formazione di Capodorlando Nella Acegas-APS Trieste dunque dicevamo dopo il turno di riposo è già tempo di pensare al ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia L'andata a Forlì, l'andata in casa contro Casale Monferrato è stata vinta da Trieste per 11 punti buone partite sostanzialmente di tutti soprattutto di Brandon Brown, Joe Bay Thomas e di Daniele Mastrangelo che sono andati in doppia cifra ma è stata una prestazione convincente e corale soprattutto per la squadra di coach Dal Masson mentre tra i piemontesi si è distinto il sovietico, ex-sovietico Lettone Buskevich che ha realizzato 11 punti con 7 rimbalzi da quel più 11 riparte la Acegas-APS domani sera squadra al completo rientra, anche se non nel pieno delle sue condizioni fisiche anche Michele Ruzier dopo il problema a una gamba e rientrano anche tutti i vari Filloi, Gandini, Thomas, Brown che nella amichevole di giovedì scorso al Palatagliercio hanno avuto come dicevamo prima grossi grossi problemi nel programma dei quarti di finale della gara di ritorno dei quarti di finale c'è oltre a Casale Monferrato contro Trieste c'è anche Pistoia contro Ferentino Iesi contro Scafati e Barcellona contro Trento vi ricordo che domani sera quindi sarà completato anche il quadro delle squadre che parteciperanno alla Final Four di Coppa Italia un traguardo prestigioso, un traguardo che la Acegas-APS Trieste da matricola conta di raggiungere anche per mettere un'altra attacca prestigiosa sul proprio cinturone in questa stagione che sta già dando parecchie soddisfazioni alla società e anche ai tifosi del Palatrieste andiamo a vedere anche il dato che ci siamo visto che si parla certamente di Coppa e per un paio di giorni la nostra attenzione sarà rivolta esclusivamente alla Coppa Italia alla qualificazione verso le Final Four però c'è anche un campionato di Lega 2 da onorare, da tenere sempre in grande considerazione prossimo turno, nel prossimo fine settimana rientrando da Casale Monferrato e a proposito la Acegas sarà di nuovo a Trieste giovedì in tarda mattinata diciamo primo pomeriggio in tempo per iniziare a preparare l'incontro che vede i Biancorossi affrontare domenica al Pallarubini la prima Veroli 18.15 al Palatrieste le altre partite del turno, dell'undicesimo turno saranno Ferentino contro Capodorlando Trento contro Casale Monferrato Sigma a Barcellona contro Pistoia Imola contro Forlì Brescia contro Bologna Verona contro Scafatti mentre toccherà il turno di riposo alla Fileni Iesi vi ricordo che anche c'è la lodevole pregevole iniziativa del front office della società della Acegas APS in regalo per Natale potete fare, potete regalare dei mini abbonamenti alle quattro partite del mese di gennaio e di febbraio che si giocheranno al Palatrieste i mini abbonamenti sono ancora in vendita con prezzi che dipendono chiaramente dal settore del Palatrieste che volete andare ad occupare sono in vendita al Ticket Point triestino e quindi non fatevi sfuggire questa occasione di fare un regalo sicuramente molto apprezzato che potrà essere molto apprezzato da tutti i tifosi e piccoli tifosi della Cegas APS ma anche per fare in modo che il Palatribini il Palatrieste sia ancora più pieno di quello che già è per spingere la squadra di Eugenio Dal Masson a traguardi sempre più ambiziosi nel 2013 siamo quasi in chiusura io vi ricordo anche l'appuntamento con domani sera ci sarà Cuore Bianco Rosso sarà dedicata esclusivamente al ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia ci saranno tutte le anticipazioni a poche decine di minuti dall'inizio del match dalla Pala 2 di Casale sentiremo anche come sta qual è l'atmosfera nello spogliatoio della Cegas APS e faremo l'imbocca al lupo alla formazione di coach Eugenio Dal Masson a Marco Carra e compagni per oggi ci fermiamo ci salutiamo qui ci sentiamo domani sera con Cuore Bianco Rosso e mi raccomando sempre in gamba con i tifosi della Cegas chiamati a spingere Marco Carra e compagni alla vittoria o comunque alla qualificazione in Coppa Italia a Casale Monferrato ci vediamo domani ciao 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 ciao